Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Melissa Satta, il bikini dell'ex velina di Strescia non riesce a contenere le forme Lo scatto social è da bollino rosso, i fan ammagliati.Melissa Satta Showgirl e influencer molto amata, Melissa Satta è costantemente sulla bocca di tutti a causa della popolarità ottenuta qualche tempo fa come Velina Mora di Strescia la notizia Regina della cronica rosa, la giovane donna è da sempre al centro dell'attenzione In queste ore, la Satta sta infiammando il web perché è l'assoluta protagonista di uno scatto veramente ardente Seguitissima, sta facendo rimanere a bocca aperta i follower che la idolatrano Di che cosa si tratta nello specifico? Melissa Satta da bollino rosso Molto famosa nel panorama del mondo dello spettacolo italiano, l'ex moglie del calciatore ganese Kevin Prince Boateng è una delle regine delle prime pagine di Cronaca Rosa Difatti, l'influencer è, spesso e volentieri, versagliata dal gossip e dal chiacchiericcio mediatico Sempre bellissima, quella che era la Velina Mora di Strescia la notizia ha deciso di condividere con i suoi ammiratori affezionati uno scatto a dir poco sensuale che la ritrae in tutto il suo splendore Andiamo a scoprire nello specifico di che cosa si tratta.Melissa Satta sexy Il bikini della Satta non riesce a contenere le forme.Imprenditrice dotata di una fisicità prorompente, Melissa è una donna molto desiderata e, certamente, molto imitata Come ben sappiamo, le immagini hot della showgirl non sono mai state numerose, ma quelle che ha deciso di postare da qualche anno a questa parte hanno colpito nel segno E, anche questa volta, è accaduto ciò. La Satta, infatti, ha pubblicato su suoi canali social uno scatto a dir poco bollente che non è passato inosservato agli occhi del popolo del web, rimasto ammagliato dalle forme dell'ex compagna di vita di Boateng Scopriamo di più.Melissa Satta bikini.In attesa immagine hot, la meravigliosa donna di spettacolo sta ipnotizzando tutti con la sua scultorea fisicità A giudicare dalle foto condivise, sembra proprio che per la Satta sia arrivata la prova costume ancor prima del previsto Difatti, lo scatto che l'influencer ha postato la ritrae stupenda, abbigliata da un bikini di colore nero che riesce a contenere le generose forme a Stent Il capo da bagno, però, è stato sfoggiato con l'obiettivo di rendere noto a tutte le persone che la seguono che il 25 marzo 2022 ha visto la luce la sua nuovissima collezione di costumi Decolte in bella vista e pelle fantastica, ammiriamo il post che racchiude cotanta bellezza che i follower hanno assolutamente apprezzato Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video